Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Leonardo Bardazzi. Per il momento il traffico scorre regolare in Fipilì e in tutta la rete autostradale toscana. Sulla Fipilì restringimento di carreggiata nel tratto tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni per lavori in corso. In A1 alla stazione di servizio Aglio Est in direzione Bologna segnalati disservizi per veicoli a gasolio. Sulla Firenze Siena scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 Firenze in Pruneta in direzione Firenze. A Firenze per lavori sul viadotto Marco Polo chiusa la rampa in uscita su Viale Europa in direzione Bagnarripoli e quella in entrata sul viadotto da Viale Europa. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!